L'affascinante magia di una nuova visione. So, guarda, è qui che devo guardare in questa telecamera qui. La grande ricchezza di una nuova stagione di cinema. Niente promesse, spara! Ammisa. Io ti ucciderò. Dal posto. Che cosa abbiamo? Hai fatto treci. E ora andiamo al party! Che dici, partiamo o no? Cosa stiamo guardando? Se volessi tuo marito, me lo prenderei. Così. Film di ogni genere. E ogni genere di film. Per trovare ogni volta lo spettacolo che stai cercando. Così? Sempre in HD. Seda. Sì. Alla bellezza. Quest'anno. Che anno?